Gari Lineker prende il pallone Gari Lineker ha esordito tra i professionisti con la maglia del Leicester imponendosi verso la metà degli anni 80 come uno degli attaccanti migliori del calcio inglese e mondiale Due volte capocannoniere di fila Ci prova Alli, murato dal difensore Paolo Di Bala Matt Winnie Di Bala Palla Del Piero Prelevato dalla Juve nell'estate del 93 proveniente dal Padua Del Piero ha esordito in Serie A il 12 settembre di quello stesso anno in un Foggia Juve Nonostante fosse il suo primo anno nella massima serie Fece intravedere subito Lampi di quella classe che lo avrebbe reso uno dei talenti più puri nel nostro calcio Avanza Del Piero Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio Ottima la copertura del difensore Pallone profondo pericoloso Un altro pallone in mezzo è un gol che preme i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato Vantaggio strameritato, il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto e non ha sbagliato l'impatto col pallone Praticamente un ricordo è porta vuota Il punteggio è cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1 Alli Garilinecker prende il pallone Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla Buono il recupero, possono ricominciare Hanno perso palla Dele Alli Nedved conquista il pallone Avanza del Piero Cristiano Ronaldo È stato fermato dal difensore Kanté A metri davanti a sé, attenzione Garilinecker prende il pallone Il primo periodo della carriera di Garilinecker è legato alle maglie dell'Ester, la squadra della sua città e soprattutto dell'Everton E beh, straordinaria la sua unica stagione con i Toffis Chiusa con 41 presenze e 30 gol in Premier che gli valsero il titolo di capo cannoniere e il passaggio al Barcellona nell'estate dell'86 Ecco Valdini Cristiano Ronaldo Palla del Piero Attenzione a CR7 Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio Palla che finisce in corner Corner battuto in mezzo Ci prova del Piero Sarò di nuovo in parità grazie a questa rete Non mollano, non ci stanno a perdere Continuano a lottare su ogni pallone Hanno trovato nuovamente il gol della parità La partita ancora molto radire Palla del Piero Matuidi Palla verticale di Matuidi Attenzione a Di Bala Attenzione a Di Bala qui Quarto uomo esibisce il tabellone Due minuti di recupero Siamo assistendo a un match davvero emozionante Sul risultato di 3 a 2 Lucas Kante Buon possesso palla Caccia di spazi Possono ripartire dopo il recupero del pallone Si riprende a giocare per i secondi 45 minuti di questa sfida valida per la FUT Champions Weekend League Match da seguire tutto ad un fiato Fino al fischio finale Per scoprire chi andrà avanti E chi tornerà invece a casa Grande intervento Quasi come un gol Matuidi Squadra di casa che è partita a mille Correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento Dele Alli Potrebbe crozzare Occasione importante per pareggiare Attenzione E' un gol Evidentemente erano ancora con la testa A festeggiare il gol del vantaggio Un calo di concentrazione Che si è rivelato fatale Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza Grandi responsabilità su questo gol E sono d'accordo che si è concesso una gita Fuori porta Un picnic Con stata cara la sua squadra Van Anolt Dele Alli Ottimo il recupero Passaggio non esattamente perfetto Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio Glotti arriva a coronamento di un vero e proprio dominio Questo vantaggio strameritato Assolutamente Pier Stavano giocando davvero bene Chiedevo appunto Quando è che avrebbero segnato Sono scatenati adesso Ho preso le misure agli avversari per Luigi Ci sono ovviamente anche delle lacune difensive Ma insomma il dato è clamoroso Ci stiamo sicuramente divertendo C'è spazio per calciare Può far male da lì Che gol Splendida rete Nemmeno il tempo di esultare per il gol segnato Che hanno subito immediatamente il pareggio Le due squadre sono di nuovo in parità Davvero una partita che regala emozioni Joao Cancelo Nedved conquista il pallone Pogba Matuidi Matuidi Palla a Del Piero C'è il tiro di Del Piero Alex Del Piero Bravo il portiere a dire di no Si riprenderà dunque con il corner Ottima chance per portarsi avanti Maldini E il difensore ribatte su una linea di porta Occhio al tiro della bandierina Non si fida Spazza via di pugno Ancora un passaggio perfetto Un altro ottimo tocco Palla a Lineker Felipe Anderson Baragna metri Prova Felipe Anderson Occhio al ribalzo Cristiano Ronaldo Terma l'azione Recupera il pallone Mettendosi sulla traiettoria giusta Daniele De Rossi Daniele De Rossi Prova dalla distanza Una botta pazzesca Una conclusione davvero imparabile Ho la sensazione che lo rivedremo spesso Durante la stagione Un gol perfetto per le clip Non ciò che campano Ten zone Un gol perfetto Un gol perfetto Il daro La scena On l'imp puissance Ali Logo Per E' un gol fantastico, praticamente attirato da casa sua. Quanto mi piacciono questi gol, i gol più spettacolari, conclusioni dalla distanza, gli hanno lasciato troppo spazio e lui ne ha approfittato. Trovano a dare Ibra, e c'è il gol, palla in rete! Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Hanno trovato nuovamente il gol della parità, la partita ancora molto da dire. Mendy, Kanté, Van Anolt, cercano il buco della difesa avversaria. Palla che finisce in out, Alexandro, prova a chiudere su Alexandro. Che classe è questo giocatore! Grande classe direi! Pogba, palla a Del Piero. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Zlatan Ibraimovic. Occasione per passare in vantaggio. Guadagnano la dimessa laterale. Matuini. Alexandro. Ottimo il De Vai. Gariline Kerra, prende il pallone. De Rossi. Lucas. Può avanzare a spazio. E' il pallone che supera la linea. Autogol. Gli cerca di dare consolazione dopo questo autogol. Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Autogol dunque, episodio chiave della gara. Ce ne va Ibra? Mancano dieci minuti alla fine della gara. Van Dijk. Van Anolt. De Rossi. Ulk. Occhio a questo lancio. E nel rete! Una partita magnifica, impasita da questi tre gol. Un calo di concentrazione pesante da parte del portiere, che rischia così di compromettere il lavoro della squadra. Una partita incredibile, bellissima, spettacolare. Stiamo vedendo molti gol. Salta il nuovo Ibra. Il numero di Ibra. Ibraimovic. Coman. Ulk. Intercettano bene il pallone. Si fa vedere Ibra. Ibra, prova. La toccare per ultima il difensore, e dunque calcio a un angolo. Palla messa dentro da Dembele. Maldini! Parata super del portiere, che vale come un gol. Un intervento di pure istinto su questa conclusione da pochi passi. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? Altri tre minuti da giocare prima del novantesimo, Pier. Grazie, Matteo. Puntuale, come sempre. Può andare al cross. Restituisce bene il pallone. Ibraimovic. Prova a calciare. E c'è il gol. Palla in rete. Gol che non cambia la sostanza, ma è da sottolineare l'atteggiamento positivo della squadra. La partita agli sgoccio di Pier. Ma sai, nel calcio, mai detta l'ultima parola. Continua il giro palla nella propria metà campo. Visto il risultato favorevole, può essere una buona strategia. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti. Ecco il triplice. Hanno l'occasione, attenzione, per... Pallone profondo, pericoloso. Un altro pallone in mezzo. Potrebbe gozzare. Occasione importante per pareggiare. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Hanno l'occasione per portarsi in battaglia. Daniele De Rossi. Prova dalla distanza. Una botta pazzesca. Hulk. Occhio a questo ranco. Il risultato totile. Di Rossi. Bloody d' Ohho. ough? L'us Anglo. visiting. molta man i mineral. De Rossi.